Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare come si usa Unity, ovvero proprio le basi e come potete vedere nell'aggiunta consueta al titolo si tratta di un tema che mi è stato suggerito da qualcuno di voi. Allora, come mai tutto un tratto vi presento un video così basilare, diciamo, ecco, e il motivo è semplice, perché non bisogna mai dare nulla per scontato, ovvero qualsiasi utente nuovo che si accinge ad utilizzare Ubuntu si trova nella stessa situazione in cui si dovesse accingere ad utilizzare Windows o Mac OS X o qualsiasi altro sistema operativo. In poche parole, probabilmente chiunque di voi avrà già sentito qualcuno che vi ha detto che un determinato sistema operativo, che sia Windows o Mac OS X o basato su Linux è uguale, è meglio, cioè per questa persona è meglio perché è più facile ed intuitivo, ma voi non dovete credere a questa affermazione. In realtà, chi vi dice ciò confonde la sua abitudine nell'utilizzare un determinato sistema operativo con una determinata interfaccia, confonde, dicevo, l'abitudine con l'effettiva facilità e intuitività di utilizzo. Questo non vuol dire che Windows, Mac OS X o Ubuntu non siano facili ed intuitivi in fin dei conti, però sfido chiunque che non ha mai visto un PC con Windows, che non ha mai visto un PC con Mac OS X, che non ha mai visto un PC con una distribuzione Linux, nel nostro caso specifico parliamo di Ubuntu, dicevo, sfido chiunque a metterlo davanti a uno schermo e a iniziare a utilizzarlo senza problemi. Questo non succede e non succederà mai. Ogni interfaccia per semplice che sia stata costruita, per semplice che sia stata studiata, ha sempre bisogno di essere introdotta, di essere spiegata almeno un minimo per rompere il ghiaccio, insomma, per fare in modo che il nuovo utente riesca ad orientarsi. Ed ecco che in effetti qualcuno di voi che segue il mio canale ha chiesto espressamente come si usa Unity in fin dei conti, perché voglio cambiare il sistema operativo, ho voluto cambiare il sistema operativo, adesso però mi trovo davanti a qualcosa di nuovo e mi farebbe piacere che qualcuno mi spiegasse come devo muovermi in Unity, che per me è nuovo. Ecco che quindi, appunto, ripeto, non bisogna dare nulla per scontato e nemmeno la nostra Unity, perché qui accumuliamo video sui nostri canali, spieghiamo di tutto, dettagli di qua, dettagli di là, ma poi magari perdiamo di vista l'essenziale, cioè è vero, Unity permette questo, permette quello, è comodo qua, è comodo là, è comodo su, è comodo giù, ma se poi non spieghiamo Unity in quanto tale, il nuovo utente si troverà in difficoltà. Ecco che in realtà, già più di un anno fa, io avevo creato una serie di video in 14 parti da 15 minuti l'una che spiegava già allora le caratteristiche della nascente interfaccia Unity. Dico nascente perché circa un anno fa, poco più di un anno fa, veniva lanciata da parte di Canonical la nuova interfaccia Unity per la sua Ubuntu. Allora era proprio un progetto giovanissimo e anche pieno di difetti, diciamo pure la verità, che ha scatenato numerose discussioni fra pro e contro, ma che in fin dei conti conteneva, portava già con sé le caratteristiche principali che ancora oggi sono valide per l'uso di Unity. Quindi per chiunque si avvicina per la prima volta al mondo Linux e direttamente al mondo Ubuntu con la sua interfaccia Unity, io suggerirei di andare a vedersi questi miei video che pur se vecchi hanno ancora la loro validità, che andavano proprio nel dettaglio a spiegare cosa permette questa interfaccia, il suo uso quotidiano, le sue caratteristiche, anche specifiche un po' particolari che magari non si usano così spesso, ma che possono venire utili in qualsiasi momento e quindi è buono da sapersi. Ecco, queste 14 parti le trovate appunto nel mio canale, quindi se siete già capitati nel mio canale, se siete il tour già iscritti nel mio canale, basta scorrere il suo contenuto e troverete 14 video con il titolo tutto uguale a parte il progressivo finale e il titolo è esplorare Ubuntu Unity 11.04, vedete adesso siamo alla versione 12.04, quindi è proprio giusto poco più di un anno fa che partiva appunto l'avventura di Unity su Ubuntu come interfaccia desktop, quindi vedete qui sono 15 video, esplorare Ubuntu Unity 11.04, beta 1, beta 1 numero 2, numero 3 eccetera eccetera, diciamo che anch'io ero un po' gli inizi del mio canale, non potevo caricare video più lunghi di 15 minuti, quindi per forza di cose ho dovuto spezzare questa mia registrazione, lunga registrazione in 14 parti. Ecco, quindi cercate i video con questo titolo oppure cercate proprio nel canale, mettete questo titolo, esplorare Ubuntu Unity 11.04 e vi verranno elencati i 14 video. Siccome eravamo gli inizi di Unity, le prime parti di questo video non sono proprio incentrate sull'uso in quanto tale, ma fa un po' un escurso sulla filosofia che ci sta dietro, sul perché Canonical ha iniziato a sviluppare questa nuova interfaccia, le sue caratteristiche di base e anche se la grafica nel tempo è un po' cambiata, si è evoluta, ripeto alcuni principi base di come si usa Unity e di come Unity è efficace, usandoli in un certo modo, erano già descritti un anno fa, quindi primo consiglio quello. In questo video, quindi, proprio perché il tema mi è stato suggerito, mi limito, diciamo così, a fare un brevissimo riassunto delle basi di utilizzo di Unity, rimandando a questa serie di video già presenti sul mio canale. In sostanza, quando si accede a Unity, ci si trova davanti un'interfaccia tipo quella che vedete qua. Dico tipo, perché appena installato, in realtà le icone che vedete qui a sinistra non sono proprio queste, questa è già la mia interfaccia di lavoro, quindi l'ho già personalizzata un attimino, vi ritrovate delle icone leggermente diverse, qualcuna di meno, però la sostanza è questa. Com'è composto Unity? È composto da un pannello superiore nel quale trova posto il menu delle finestre, quindi le finestre che sono già perfettamente integrate in Unity, riportano il loro menu qui in alto e per menu intendo proprio sempre, quindi vedete qui ho la mia scaletta in una finestra di un applicativo, il suo menu di questo applicativo, che si chiama Zim Desktop V, che è riportato in alto sempre, un po' stile Mac OS X qua. Chi proviene da Mac OS X si ritroverà con questi menu in alto e si ritroverà anche con i pulsanti sulla sinistra per chiudere, iconizzare, rispettivamente massimizzare una finestra. Questa è la prima caratteristica, quindi il pannello superiore sulla sinistra presenta il menu degli applicativi che avete aperto. Se io faccio clic sul browser Chromium, vedete che sopra il nome cambia Chromium e qui il menu rispettivamente è quello di Chromium, quindi appena la finestra acquisisce il fuoco, si dice così in gergo, quindi diventa quella attiva, quella sulla quale stiamo lavorando, il menu sopra si adegua e cambia. Sulla destra del pannello ci sono i vari indicatori, i cosiddetti indicatori, fra i quali quelli di sistema che permettono poi di gestire l'interfaccia e il sistema in quanto tale, l'indicatore di sessione, cioè quando siete collegati, quando siete entrati nella vostra sessione di Ubuntu, vi ritrovate il vostro nome utente e questa è la vostra sessione. Esiste anche una sessione ospite dimostrativa, la quale non salva nulla di quello che fate nella sessione ospite, in questa sessione ospite potete lavorare ma non potete accedere ovviamente alle aree con i dati degli altri utenti, né niente, è una sessione che potete tranquillamente usare per dimostrazione o per far vedere a qualcuno che cosa sia Ubuntu e Unity senza toccare la vostra sessione personale. Comunque, sessione, dicevo, qui c'è un indicatore con il calendario che quando chiuso vi può presentare a dipendenza delle opzioni il giorno della settimana, il numero, il mese, l'ora. Si possono far vedere anche i secondi, volendo, io non ho l'abitudine, comunque, ecco, se si clicca si apre un calendario con i numeri di settimana, il giorno, si può navigare nel tempo per vedere una certa data in che giorno cade, eccetera. L'indicatore audio per gestire tutto ciò che ha a che fare con l'audio del sistema. l'indicatore delle connessioni di rete, quindi con o senza fili, qui viene gestito tutta la parte di connessione alla rete, internet oppure la vostra rete privata personale. Indicatore di messaggistica, chat, social network, ecco, vedete che qui abbiamo un programma di chat con i suoi stati, quindi se non siete disponibili, fuori rete, disponibili per chattare, eventualmente, configurare l'email, social network, quindi qui potete, è un programma che vi permette di connettervi a Twitter, Facebook, insomma, tutti i social network, qui vi riassume i messaggi che nel frattempo avete ricevuto, Ubuntu One, che è la vostra nuvola personale, accedete al pannello di gestione da qui, e poi, praticamente, diciamo che gli indicatori standard, quando voi installate il sistema, finiscono qui. Andando verso sinistra, qui vedete alcuni indicatori, che sono però stati installati da me successivamente, quindi ovviamente si possono anche ampliare le funzionalità presenti sul pannello superiore. Presentato il pannello superiore, andiamo sulla sinistra e vediamo che c'è il cosiddetto launcher o lanciatore, che è quello che presenta, sul quale potete fissare e depositare le icone dei programmi più usati, e sul quale vengono indicati i programmi attualmente in uso. Vedete che io ho aperto in questo momento, Ubuntu One sta lavorando, il pannello di controllo con l'audio sta lavorando, è aperto, il programma di registrazione del video, questo video che state guardando viene registrato da questo programma, vedete che è attivo, altre icone non attive, però le ho fissate per mia comodità sul launch, per avere subito portata di click, questa è la nostra scaletta che sto seguendo, attiva il browser, Chromium attivo e anche Nautilus, cioè il file manager attivo. Ecco, quando voi installate da zero Ubuntu, vi ritrovate già alcune di queste icone già prefissate sul lanciatore, sul launcher. Il pulsante qui in cima, che è sempre fisso lì, così come fisso il cestino qui in fondo, quindi il cestino dove voi buttate i file prima di eliminarli definitivamente, finiscono nel cestino come in qualsiasi altro sistema operativo, il cestino resta qui in fondo, resta qui in fondo, prefissato, e in cima resta fisso sempre il tasto con il logo di Ubuntu, che è quello che vi apre la dash, quindi abbiamo visto il launcher e la dash è proprio il fulcro di Unity, l'unità centrale di Unity, dell'interfaccia Unity. La dash, quando si apre, apre un pannello sovrapposto, nel quale potete fare essenzialmente delle ricerche di tutto un po'. Le ricerche si intende con le cosiddette lanes, o lenti, se vogliamo tradurre in italiano, qui sotto, che ognuna, diciamo che la dash è suddivisa in più lanes, ognuna delle quali ha un suo ruolo. La home, questa qui la casetta, è quella generica, che presenta un po' l'estratto dei contenuti di altri lanes più specifici, compiti più specifici. Vedete che se io utilizzo nel tempo vari applicativi, quelli più recenti, utilizzati più recentemente, togliamo il filtro, mi mostra tutti gli applicativi in ordine di utilizzo, diciamo, più li utilizzo, più si presentano per primi, in questa lanes home casa. Poi ci sono anche i file che ho aperto più di recente, e ci sono anche altri file che ho scaricato o andato a cercare da altre parti. Poi c'è la lanes specifica, questa con, diciamo, gli attrezzi d'ufficio, ecco, una penna, un righello, che sono gli applicativi. E anche qui, la lanes è specializzata per gli applicativi, quindi ciò che si cerca qui in alto, nel campo in alto, viene filtrato sotto esclusivamente per gli applicativi. Poi, nell'installazione standard, appare subito a fianco la lanes per i file, quindi specifico per i file, e una lanes per la musica, e una lanes per i video. Ecco qua. Tutte le altre lanes che vedete qui nella mia installazione sono state aggiunte successivamente, quindi non è che l'interfaccia Unity sia prefissata e congelata così come la trovate all'installazione, ma poi col tempo, man mano che vi aumenta l'interesse di qualcosa, o vedete che c'è la disponibilità di una lanes che vi interessa, potete sempre installarla, e vi verrà aggiunta qui in basso, potete scegliere, tipo, che ne so, questa, che è quella di Wikipedia, potete aggiungere una lanes che vi permette di ricercare in Wikipedia direttamente dalla Dash. Quindi, vedete che la Dash è proprio il fulcro di Unity, è tutto qui che si svolge, e guardando anche come si evolve Ubuntu anche nella prossima versione che uscirà in ottobre, quindi fra poco più di un mese. E anche sicuramente in futuro, l'intenzione di Canonical e di Ubuntu è proprio quella di concentrare sempre più l'utilizzo della vostra interfaccia in questa Dash, quindi sarà veramente l'elemento centrale. Lo è stato già dall'inizio e poi si è sempre più evoluta questa Dash e si sta tuttora evolvendo in questo senso. L'utilizzo, come detto, si basa su un campo di ricerca qua in cima. Se andiamo, per esempio, nella lens specifica dell'applicazione e cerco banalmente la calcolatrice, inizio a scrivere K, vedete che appare già qui nella prima riga, solo scrivendo CA come calcolatrice, appare già nella prima riga qui a destra, calcolatrice, vedete qui. Posso ancora andare avanti a scrivere e la calcolatrice si avvicinerà sulla sinistra mentre più stringo il filtro, quindi più è specifico il filtro, calc, vedete che scrivo calc, e appare LibreOffice Calc, che è poi il corrispondente dell'Excel, e la calcolatrice, quindi con calc, radice comune, due applicativi, vedete che ho ristretto il filtro. Poi, come ho detto, avete i video di un anno fa per vedere i dettagli, non sto qui a parlarvi adesso, quindi a ripetere il tutto sui filtri, non filtri delle lens, perché sennò diventa troppo lungo un video, diventa un po' un doppione di quelli che sono già presenti sul mio canale, però è solo per mostrarvi come ci si muove in Unity quando un utente è nuovo, quando si trova davanti a questa interfaccia, apre la sua Ubuntu per la prima volta, e si trova praticamente in questa condizione. Adesso, a parte lo sfondo, che è un altro, quello standard, ma svuotandolo di finestre, ci troviamo così, e come faccio a orientarmi inizialmente, dove clicco, cosa faccio, come comincio a lavorare. Ecco che, appunto, Ubuntu aiuta, presentando già delle icone prefissate sul lanciatore qui a sinistra, come ho detto, vi ho detto che il bottone dash, il pulsante dash, vi permette di cercare quello che c'è sul vostro PC, perché anche nei file voi potete cercare ciò che avete come documenti sul vostro PC, vari tipi di documenti, quindi proprio documenti come documenti di testo, fogli di calcolo, eccetera, oppure la musica, oppure i video. Nella versione, dalla prossima versione in avanti, ci sarà anche una lens già standard per le immagini e fotografie, quindi si completa ulteriormente la dotazione standard, e il tutto si svolge appunto mettendo una stringa di ricerca qui in alto, oppure filtrando il risultato a seconda di ogni lens con i suoi filtri e poi fate clic semplicemente sull'elemento che volete, fate clic e questo si aprirà, sia che sia un file musicale, sia che sia un file di testo, sia che sia un applicativo, fate clic e si aprirà. Quindi, ecco, questo è proprio Unity, l'essenziale di Unity, è la base di Unity. Voi sapete che in Linux è da una vita che ci sono i testo virtuali, quindi qui c'è un pulsante, anche lui, che resta sempre in fondo, spena sopra il cestino, selettore spazio di lavoro, quindi quando si clicca qui vedete che per difetto Unity e Ubuntu si presentano con quattro spazi di lavoro disponibili nel quale voi potete suddividere le vostre attività che state facendo sul PC, quindi per non accumulare troppe finestre aperte in un unico spazio di lavoro ne avete quattro virtuali in cui potete riorganizzare meglio il vostro lavoro. e questo è un altro aspetto di Unity. O meglio, non è specifico di Unity a dire la verità, perché ce l'hanno tutti gli spazi di lavoro, tutte e qualsiasi distribuzione Linux che voi installate vi trovate la possibilità di gestire degli spazi di lavoro separati, virtuali, dei desktop virtuali in questo senso. Non è specifico di Unity, però lo dico perché anche Unity ovviamente come tutti gli altri distribuzioni di Linux presenti agli spazi di lavoro. Una delle cose che immagino io un utente nuovo possa andare a cercare è come gestisco il mio sistema, le impostazioni, eccetera, quindi oltre agli elementi base di Unity, quindi qui perché no io lo posso anche mettere, visto che l'ho scordato ma l'ho detto intanto che parlavo, quindi il pannello superiore il launcher, la dash e almeno le impostazioni di sistema ve le posso mostrare sono presenti qui dove c'è questo all'estrema destra qui del pannello dove c'è una specie di ingranaggio è una rotellina qui vedete che ci sono le impostazioni di sistema ecco qui in questo menu in questo indicatore vi presento un menu fra il quale c'è la voce impostazioni di sistema oppure come gestire il monitor le applicazioni che si avviano all'avvio del sistema le stampanti collegate altri dispositivi se ce ne sono terminare la sezione arrestare il sistema quindi banalmente ho avviato il mio sistema come faccio a spegnerlo? e qua sempre nel menu con la rotellina con l'ingranaggio arresta e voi potete spegnere il vostro sistema ecco le impostazioni di sistema facendo clic qui si aprono in questo caso io le avevo già aperte sull'audio però all'inizio vi si presenta così un pannello ecco un pannello di questo tipo con più o meno icone a seconda che magari avete installato dei moduli di gestione in più ecco ve lo dico perché nel mio caso ho installato Ubuntu Tweak e MyUnity che sono due programmi a supporto di gestione del sistema che quindi si aggiungono come icone una volta installati si innestano come icone qui quello standard l'impostazione di sistema il pannello di sistema standard non presenta questa e non presenta questa icona presenta tutte le altre vedete un classico impostazione di sistema pannello di controllo addirittura con un campo di ricerca qui per cercare le varie opzioni e potete navigare vedere le varie impostazioni del vostro sistema sono le lingue c'è l'aspetto quindi anche lo sfondo del vostro desk potete cambiare nell'aspetto il tema quindi come sono decorate le finestre le cambiate qui potete vedere la tastiera se è impostata giusta le stampanti l'audio l'alimentazione il mouse eccetera 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 ecco e questo è il pannello pannello di sistema praticamente il corrispondente del pannello di sistema di Windows o insomma l'impostazione di sistema le trovate qui ecco questo senza dilungarmi troppo è proprio il minimo le indicazioni minime di come si usa Unity di come è organizzato Unity e di come lo si usa fondamentale lo ripeto prima di chiudere il video quindi il pulsante qui in cima la dash che vi si apre e vi si apre tutto il mondo del vostro pc sia a livello di programmi che a livello di contenuti di dati del vostro pc campo di ricerca e siete liberi di cercare questo stesso pulsante che adesso io ho usato sempre con il click del mouse lo potete aprire la dash la potete aprire anche con il tasto diciamo quello che si chiama super quello con il simbolo di Windows che di solito si trova sulla sinistra forse nelle tastiere più grandi si trova anche replicato anche sulla destra non lo so comunque di solito è sulla sinistra schiacciate quel pulsante e vi si apre la dash una caratteristica che può aiutare i nuovi utenti è che se tenete premuto per qualche istante il pulsante super cioè quello col simbolo di Windows vi si apre un riassunto delle scorciatoie da tastiera così vi mostra come potete essere più rapidi con Unity grazie alle scorciatoie da tastiera quindi la combinazione di due massimo tre tasti potete fare varie operazioni che con il mouse magari dovete fare tre o quattro clic ecco tenete giù il pulsante con il simbolo di Windows e vi appare questo riassunto nella vostra lingua con le varie scorciatoie da tastiera che vi aiutano a navigare nell'interfaccia Unity ecco penso che come breve introduzione possa essere tutto qui vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima un saluto ciao ciao